Il Dipartimento di Protezione Civile ha chiesto a tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio un aiuto per poter effettuare controlli all'aeroporto e il CIVES, che è un'associazione di volontariato costituita da infermieri, ha partecipato volentieri. Quindi il nostro presidente, Carlo Di Bari, ha chiesto la disponibilità ai suci operativi e quindi in questo contesto siamo andati all'aeroporto a effettuare misurazioni di temperatura a viaggiatori che provenivano da voli internazionali o da voli nazionali che però potevano essere scalo di voli internazionali, come per esempio Roma e Fiumicino. Quindi abbiamo fatto questi controlli a tappeto e laddove si fosse verificato un aumento di temperatura c'era tutto un litter da seguire in cui il medico che era lì di servizio visitava il paziente e poi dall'anamnesi si riusciva a capire se potesse essere un aumento di temperatura correlato a un possibile contagio D oppure qualcosa diciamo banalmente correlato a un'influenza eccetera. Fortunatamente, almeno dalle prime verifiche, non abbiamo trovato nessuno con l'alto di temperatura però ovviamente l'allerta è alta e quindi restiamo comunque operativi ogni giorno per cercare di fronteggiare queste emergenze e cercare di contenerla quanto più possibile. Il coronavirus, specie dopo le notizie dei primi contagi in Lombardia, fa sempre più paura ma l'importante è non trasformarla in psicosi. Fa paura, la cosa importante è che la paura non diventi psicosi è che in un certo qual mondo si conoscano quali sono le misure da adottare che sono quelle per prevenire la normale influenza e quindi lavarsi spesso le mani, evitare luogo affollati se si frequenta luoghi affollati potrebbe essere utile l'utilizzo di una mascherina però teniamo presente che è una patologia che fa paura è vero che ha una modalità di contagio abbastanza veloce però comunque ha una mortalità del circa il 3% quindi comunque sia siamo di fronte a una pandemia che però va trattata per quella che è senza che si verifichino allarbismi inutili o addirittura casi di razzismo nei confronti della popolazione cinese che non hanno senso di esistere insomma perché la patologia colpisce tutti a prescindere dalla nazionalità.